Vivi nello Spirito Santo e sarai fedele. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Matteo e oggi facciamo i versetti 27 fino al 32. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Avete inteso che fu detto Non commetterai adulterio Ma io vi dico Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo cavalo e gettalo via da te ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo tagliala e gettala via da te Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto Chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio Ma io vi dico Chiunque ripudia la propria moglie eccetto il caso di unione illegittima la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio Amè Cari amici siamo in questo primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo un discorso chiamato evangelico un discorso programmatico dove Gesù sale sul monte e come il nuovo Mosè porta la nuova legge la legge dell'agape una legge che mira diritto al cuore dell'uomo per renderlo libero a differenza della prima legge data per mezzo del servo di Dio Mosè al popolo di Israele una legge che voleva soltanto assicurarsi che l'uomo camminasse nella giusta via infatti i comandamenti ma anche ciò che noi ascoltiamo oggi domani in questi giorni che Gesù cita non commetterai adulterio non ripudiare la moglie se non in certi casi ecco che tutto questo potremmo dire che è una parte esteriore Gesù è venuto a dare pieno compimento a dare perfezione e a perfezionare questa legge non guardando quindi ad una esteriorità dell'uomo della vita delle persone ma andando direttamente al cuore infatti Gesù dice attenzione perché non è il fatto che tu esteriormente non cadi in adulterio con un'altra donna o con un altro uomo che non sia tuo marito o tua moglie che tu hai peccato ma il problema è quando tu già finché la guardi la desideri nella tua mente la vuoi nel tuo cuore quindi Gesù non solo in questo caso ma in tutto questo bellissimo discorso sta dicendo al padre interessa il tuo cuore non interessa la tua esteriorità cosa significa attenzione il mondo propone una società ideale i film la pubblicità tutto va bene o dovrebbe andare bene tutto va avanti senza far vedere il male che c'è dietro quindi magari non c'è un adulterio pubblico ma c'è dietro alle quinte ma c'è nella mente c'è nel cuore a Dio importa il nostro cuore fratelli e sorelle a Dio importa che il mio cuore e la mia mente riposino in Lui siano costanti siano fedeli ma il mondo non ci insegna la fedeltà il mondo ci dice e quando parlo di mondo parlo di tutto ciò che non viene da Dio quindi viene dalla carne viene dall'uomo secondo le proprie leggi secondo i propri piaceri ci insegna che io sto con una persona finché mi trovo in armonia finché sto bene finché mi completa finché mi sta rispondendo e mi dona ciò di cui io ho bisogno ma nel giorno in cui questa persona inizia a cambiare a non darmi più ciò di cui io ho la necessità allora ho tutte le ragioni per dirgli vai da un'altra parte vai con qualcun altro anzi mi cerco la persona adatta per quel momento capite che l'ideale di fedeltà oggi quasi non esiste a che cosa devo essere fedele si è fedeli a se stessi ad un proprio atteggiamento ad un proprio desiderio io devo essere fedele nel dissetare la mia sete di amore quindi quando una persona smette di darmi quell'amore me la trovo da un'altra parte capite che duemila anni fa il mondo non era molto diverso dal mondo di oggi anzi Gesù vuole che il tuo e il mio cuore siano liberi e per essere fedeli alla persona che amiamo agli amici che noi abbiamo c'è solo un modo vivere nello Spirito Santo tanto che San Paolo nella lettera ai Galati capitolo quinto dice se vi lasciate guidare dallo Spirito Santo non siete più sotto la legge la legge della carne anzi dice il frutto dello Spirito Santo è amore che è agape pace gioia benevolenza amitezza e fedeltà questo il mondo non lo sa per il mondo è impossibile essere fedeli alla stessa persona per un diverso periodo anzi per sempre è impossibile Dio che è immutabile che è amore puro un amore continuo è fedele a noi per sempre ce lo ha dimostrato quando Gesù stesso è salito sul legno della croce lì mi ha amato e lì ha dato se stesso per me mi ha insegnato la fedeltà ecco che soltanto una persona che vive in ascolto della parola ma soprattutto invocando lo Spirito Santo e dicendo Spirito ho bisogno di te oggi perché dentro di me ho già pensieri di infedeltà pensieri negativi che non vengono da te invochiamolo fratelli e sorelle altrimenti l'infedeltà sarà sempre la prima benvenuta perché il mio cuore e la mia carne non saranno mai soddisfatti ma lo Spirito Santo che è l'amore di Dio entra dentro di noi e rende la nostra decisione l'impegno che ci siamo presi con gli amici col marito e con la moglie di rendere perpetui quindi diciamo insieme vieni Spirito Santo porta nei nostri cuori il tuo amore Spirito Santo porta la costanza porta dentro di me quello stesso amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi Spirito Santo fa di me una persona fedele alla parola data fedele all'amicizia fedele al proprio sposo a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli amè ecco allora cari amici oggi vi consegno questo bellissimo slogan vivi nello Spirito Santo e sarai fedele non preoccuparti se ti trovi in difficoltà difficili lo Spirito Santo che è Dio interviene nella tua vita e può raddrizzare ciò che è deviato e indicarti una nuova via la via della fedeltà di Dio grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao